Un dispositivo salva vita, qual è senza dubbio il defibrillatore, è stato posizionato in un punto strategico all'ingresso sud della Galleria Fratelli Angelini all'inizio di Campo Giorgio, area che ospita tra l'altro il mercato cittadino e alcune delle manifestazioni più importanti della città. Feltre ringrazia, per voce dell'assessore comunale alle politiche sociali Deborah Nicoletto, le associazioni che si sono adoperate perché l'iniziativa fosse realizzata. Tra loro Mano Amica, Sconfini di Cura e il Leo Club. Proprio dai giovani Feltrini è infatti partito l'input che manifesta un'attenzione del tutto particolare ai bisogni più importanti della comunità. Sono ormai tre anni circa, quindi da quando abbiamo costituito il Leo Club, che avevamo il desiderio di donare qualcosa alla città di Feltre che riguardasse appunto l'ambito della cura e della prevenzione e non c'è cosa migliore che donare un defibrillatore che può servire a tutti e soprattutto può salvare la vita in delle occasioni e in dei momenti molto particolari. Il defibrillatore, naturalmente di libero accesso, sarà coperto da videosorveglianza per scoraggiare eventuali utilizzi impropri o addirittura il furto da parte di qualche balordo che non avesse ancora ben chiaro quale sia l'importanza di questi dispositivi. La diffusione della cultura dell'utilizzo del defibrillatore è fondamentale per salvare un'unità umana. Se calcoliamo che in provincia di Belluno ci sono circa 200.000 abitanti, si può dire che in provincia avvengano almeno 20-25 arresti cardiaci all'anno e soprattutto in persone che non hanno la minima idea di essere malati di cuore. Per cui un arresto cardiaco in una persona fino a 5 minuti prima sana porta quasi inevitabilmente alla morte se non si fa qualche cosa. Questo qualche cosa è l'uso del defibrillatore e mettere in pratica i manovri di reanimazione cardiopolmonare che vuol dire sostanzialmente massaggio cardiaco. Se si pratica il massaggio cardiaco, se si pratica l'utilizzo del defibrillatore, le possibilità di sopravvivenza passano da 0 al 40-50%. Grazie.